E' l'occasione per cui noi ci siamo visti qua. Adesso vi racconterò come io ho conosciuto Elena Leica. Cioè da ormai quasi un anno, io mi interesso, oltre a tutte le mie cose, mi interesso di cultura attraverso uno spazio, un nuovo universo, che c'è, grandissimo, uno spazio che non esiste, non c'è nulla di più bello che far cultura in un universo che non c'è. E questo universo che non c'è è Facebook, nel caso mio. E voi sapete cosa faccio io? Io la registro, lascio aperto Facebook, perché devo vedere se è venuto qualche amico a salutarmi. Quella sera mi è venuto in rosso sui messaggi. Allora si è andata a vedere chi era, ed era una ragazza. Una ragazza che mi ha detto, io sono Elena Leica, non so se ti ricordi di me. Io gli ho detto, sì, ma non mi ricordavo assolutamente di lei, perché ho 2200 amicizie, quindi è molto difficile che potessi ricordarmi di lei. E lei mi disse, guarda Gianni, se vuoi dimmi pure di no, però io avrei desiderio che tu mi leggessi una poesia. Io subito le dissi, guarda, una poesia te la leggerò di sicuro. Non so se te ne leggerò poi ancora, perché per quanto brava tu sia, non puoi controllare quella che è la mia attitudine a leggerti. Cioè te ne leggerò ancora nel caso in cui io mi trovassi bene a leggere le tue cose. sono qua per questo, io un'ora e mezzo al giorno per mantenermi la voce devo leggere, e quindi tanto meglio leggere poesie su Facebook, poesie del cuore.